Insombo, imbrugliato, cura testa, e che servivo, che oggi ero testa, un sopiro, dove andare, e che cosa fare? Dicevo, dai, oggi, ero testa, non faccio niente, un grito, per voi non mi chiamare, e che mi chiamare, non mi chiamare, e allora ho imbrugliato, la testa, o confusa, con un film, e si chiamava, ah, 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 questo, per voi non mi chiamare, e allora, all'argomento, instanciva, perché oggi non è, un drogo, l'iceto, o è, anche buono, anche buono, anche buono, anche buono. Oh, tuoi bambini.